Un avviso di garanzia non è una sentenza di condanna. La magistratura va davanti nelle indagini, ma in ogni caso non è accettabile che basta un avviso di garanzia per essere condannati e per certificare che in questo caso ci sia una relazione tra un politico del Partito Democratico e un'associazione mafiosa. Siamo molto preoccupati di rigurgiti giustizialisti che ci sono nel Partito Democratico. Evitiamo che tutto questo accada.